Siamo pronti anche per l'altro saluto, quello che arriva sempre a quest'ora, una buona giornata e benvenuto, bentornato Don Antonio Mazzi, buongiorno. Eccomi, eccomi, la frase è molto bella, molto carina. Il cuore è un dono che si regala a tutti. Il cuore è un dono che si regala a tutti, grazie Don. E si regala a tutti, a tutti. Nessuno escluso, mi sembra bellissimo. Grazie Don, grazie, buona settimana. Ciao, ciao.